Radio Trespresso! Radio Trespresso! Metti tutti da nostre mie nomi auguro un nuovo primo maggio e vivi ai lavoratori quelli che vanno a lavorare e tornano a casa senza lasciare la vita sul posto di lavoro altre storie altri giunti uomisanti e pure stessi freddi semplici nazioni vecchie seghe vecchie tradizioni vecchie streghe le contraddizioni nel contene e come sanzioni di libertà pure in prosti con noi è meglio concentrarsi sull'affare voglio bene voglio amare anche un'istrazione vuole un'altra erota voglio finanziare la rivoluzione e il legalitare anche un secondo non è un'istrazione ogni 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 non ogni 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 Non succederemo, fosse un riscaldamento E non torna sempre a me E non torna sempre a me E non mi credo e non prendere la vita E non dote a me E non dote a me E non dote a me Ma l'amore Ma il Dio di Andere Ma quanto è le due La cosa è la vita La cosa è la vita La cosa è la vita Non c'è chi dire, non ti dispiace se c'è chi muore, non piangere un garante, lui vuole aiutare, ma con l'umore tu, con il tuo impai, vorresti aiutarli, ma come non è un mussario, ha certo me da fare, un grande problemino non riesco a scaricare un altro sul telefone. Non rimane che il giorno è bene, non rimane che abbora il mio vodone in un bicchiere e non la tochere la vita, non rimane che il giorno è bene, non rimane che abbora il mio vodone in un bicchiere e non la tochere la vita. Ma con amore Sul palco del concerto di Acidiale per il primo maggio Peppe Giuffrida e lo straniero E facciamolo forte questo applauso Grazie, 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 grazie Allora, buongiorno anche Grazie